Ma cosa si faceva quando non c'era internet, le notifiche di Facebook o i messaggi di WhatsApp? Per i cosiddetti nativi digitali non è immaginabile un mondo senza internet. Per arrivare a raccontare il prima, il Centro Culturale Francavillese ha organizzato una regionale mostra su vecchi giornalini e libri anche scolastici. Un viaggio nel tempo, curato da Giuseppe Cafueri, che propone all'attenzione del visitatore una serie di riviste, giornalini, libri, romanzi letti dai bambini di ieri. Una lettura che inizia dal 1845 e termina nel 1974. In esposizione giornalini e pagine d'epoca, ad iniziare dall'avanti della domenica per finire la domenica del fanciullo e poi via via con il Corriere dei Piccoli, fino alle vecchie pagelle e ad alcuni libretti di racconti che si donavano alla fine dell'anno scolastico agli alunni più bravi. Non mancano i fumetti del tempo, come ad esempio le letterine di Natale appese all'albero. In una del 1968 c'è una testimonianza toccante di un bambino, che prega a Babbo Latare di far tornare in città suo padre emigrato per lavoro in Germania. Un tema di grande attualità ancora oggi, emigrazione e mancanza di lavoro. Ecco cos'era la vita senza rete, in quel tempo narrato da Cafueri. Si passava molto più tempo alle letture. Ricordi ingialliti e recuperati in questa significativa mostra. Chi ha visitato la mostra è arrivato alla fine del viaggio ad una conclusione. Possiamo continuare a sognare quelle immagini e quel tempo, affiancando internet alle buone e sane letture, senza cambiare le nuove abitudini. La mostra è allestita in un locale della centralissima Via Roma.